Per me è la quarta edizione del concorso internazionale Piazza di Siena, è sempre un grosso onore e un piacere far parte di questo concorso. Questa per me è la prima edizione da Under 25, le precedenti edizioni facevo parte del settore giovanile e proverò a fare del mio meglio come sempre e spero che siano quattro giorni di belle gare con ottimi risultati.